Il viaggio nelle Marche è un viaggio particolarmente ricco di stimoli anche diversi. Sono rimasto molto toccato anche dal punto di vista umano ad Osimo, alla Lega del Filodoro. Sono rimasto molto colpito dalla dedizione, dalla passione, dalla professionalità con cui le donne e gli uomini della Lega lavorano con i bambini che vivono situazioni di difficoltà e non soltanto i bambini. Ma da un po' in tutte le tappe delle Marche ci sono stimoli e spunti. Stamattina le start-up affano, adesso recanati nei luoghi di Leopardi e nei luoghi di una straordinaria innovazione che il sindaco Francesco Fiordomo e che tutta la comunità del territorio sta rilanciando con forza. E poi adesso ci buttiamo su tutto il tema del calzaturiero e stasera ad Arquata, nelle zone del terremoto. Dunque la consapevolezza che l'Italia è un paese straordinario, che le Marche hanno una marcia in più e che da parte nostra dobbiamo fare molto per rilanciare nel futuro e per non vivere soltanto dei ricordi. È evidente che le quattro regioni del terremoto stanno dando risposte ai problemi che questo terribile sisma ha creato. Sono realtà molto diverse perché nel Lazio dove ci sono stati i numeri maggiori di morti il territorio è abbastanza piccolo, limitato, il territorio colpito dal terremoto. Un terremoto gravissimo, danni enormi, ma è un terremoto particolarmente concentrato. Laddove invece nelle Marche è più diffuso, tantissimi sono i comuni che hanno almeno un danno o qualche preoccupazione per la ricostruzione. Di conseguenza lo sforzo che deve essere fatto da parte di tutti e naturalmente anche da parte del PD è sostenere l'impegno del governo e del commissario per la ricostruzione. Oggi ad Arquata sarà con noi Paola De Micheli, proprio per verificare lo stato dell'arte, oltre naturalmente al presidente Ceriscioli.